La lesmaniosi canina non è tutto uguale. Ciao, mi chiamo Gianluca Barbato, sono un medico veterinario e sono il fondatore del centro studi sulla lesmaniosi canina. In linea generale potresti pensare che se il tuo cane ha la lesmania, ha la lesmania e basta, ma non è realmente così. La lesmaniosi canina attraversa delle fasi che ci permette di dividerla in 5 stadi, li chiamiamo i 5 stadi fondamentali della lesmaniosi. Il primo stadio è lo stadio dei pazienti potenzialmente infetti, cioè quei pazienti che vivono in zona endemica possono essere stati morsi dall'insetto vettore ma non hanno ancora sviluppato né la positività alla malattia e nei sintomi. Questi animali vanno trattati per evitare che mai la malattia esploda. Il secondo stadio è lo stadio degli animali che non hanno ancora i sintomi ma hanno già contratto l'infezione. Il terzo stadio è lo stadio dei pazienti che hanno contratto l'infezione e hanno già i sintomi. Il quarto stadio ahimè è quello stadio in cui i reni sono già in crisi molto spesso e non sono dovuti a questa crisi, alla malattia, a situazioni sottostanti ma la terapia va calcolata precisamente perché questi sono i più delicati che possono andare incontro a morte durante la terapia. Il quinto stadio, l'ultimo, è uno stadio terapeutico, cioè lo stadio di quegli animali che nonostante le cure tendono a ricadere costantemente in forma clinica o addirittura le terapie tradizionali non riescono a curare l'animale. Il centro studi da anni si occupa di studiare i vari stadi e trovare soluzioni personalizzate per ognuna di queste condizioni.